Bentornati ragazzoli con il vostro amice, oggi vi porto un video corto ma molto importante vi parlerò un attimo dell'introduzione del canale telegram per le notifiche come proseguirà sul canale viola le live e in più faremo un giveaway che quindi vi spiegherò come partecipare molto semplice spulciando un po' tra le analytics di youtube ho trovato che solo il 10,4% di voi 8000 passa avete attivato le notifiche del canale quindi 909 persone di cui solo il 5,2% quindi 458 persone hanno attivato le notifiche del canale con le notifiche di youtube perché alcuni hanno attivato le notifiche del canale però non quelle di youtube quindi effettivamente quando io vi pubblico un video solo 458 persone quindi siamo 5,2% nelle totali ricevono effettivamente la notifica il problema è stato che quando ho abbandonato youtube 4 anni fa non c'era neanche l'algoritmo che da quel che ho letto hanno implementato nel 2020 che esclusivamente solo chi ha queste notifiche attive riceve la notifica del video e effettivamente lo sappiamo ci sono tante persone che sono iscritti a migliaia di canali quindi per quello ho deciso di tra l'altro sto guardando adesso che solo il 20% delle persone iscritte hanno visto il video di ritorno quindi secondo me c'è ancora il 60% di persone che non sanno neanche che sono tornato è quello il problema quindi non si può diciamo risolvere sta cosa ma si può diciamo ottimizzare il futuro quindi per voi che realmente comunque siete interessati a seguire le nostre avventure in compagnia adesso finalmente quando finiremo Resident Evil 8 credo che il 99% cominceremo con Dark Souls il primo visto che sapete anche voi abbiamo fatto due boss se non sbaglio nella semi-blinder anche abbiamo portato nel canale però non l'ho mai finito ok lo ridico un'altra volta sembra stranissimo però così lo potremo giocare insieme perché credo che comunque la maggior parte di voi ce l'abbia per PS4 almeno la remastered so che tanti ok giocano su PC comunque lì vedremo un attimo di capire se c'è la possibilità di utilizzare un crossplay non so se Dark Souls l'abbia implementato e quindi lì avrò bisogno del più aiuto possibile ok per affrontare questa semi-blinder al meglio per esplorare qualsiasi cosa non vedo lo sono veramente eccitato quindi tornando al discorso di prima che ogni volta mi perdo ho creato l'account su Telegram che lì sostanzialmente non vi tormenterò di notifiche tipo magari la replica del live non andrò a notificare ogni volta però voglio utilizzarlo per i video quelli principali magari quelli delle blinders di Demon's Souls quando adesso partiremo magari con un'altra serie vediamo un po' cosa fare e per le live soprattutto perché anche lì mi avete detto che stream elements o comunque Twitch in generale manda le notifiche anche 20-30 minuti più tardi rispetto a quando che uno effettivamente inizia la live è lì un grave problema quindi ho deciso di fare questo canale che trovate il link in descrizione quindi mi raccomando se ci tenete entrate nel canale e poi lì vi manderò la notifica e ora passiamo al giveaway che secondo me come verrà strutturato è molto divertente ragazzi sto un po' alla volta imparando ad utilizzare il canale Viola è un mondo veramente più vasto rispetto a Youtube però sì quindi datemi quel tempo di fare passo dopo passo per migliorarvi la qualità parlando sempre di overlay eccetera di notifiche di animazioni durante la live eccetera perché come connessione al momento oltre i 5 MB purtroppo sentendo tutti quelli che potevano offrire un servizio a livello privato è quello lì il massimo che riesco a raggiungere non ho ancora la DSL ragazzi non ho fibra l'open fiber spero che la porteranno prima o poi visto che comunque qualche persona c'è qua in zona però la vedo molto difficile più avanti magari vedrò se c'è la possibilità di pagare qualcosa a qualcuno che ti possa portare direttamente la connessione in casa però per adesso purtroppo questo qua è il limite ho preso l'affiliazione quindi da questa sera parlo di domenica 31 maggio le persone potranno iscriversi per supportare il canale che tra l'altro se associate il vostro canale con il vostro account Amazon Prime avrete la possibilità di supportarmi abbonandovi una volta al mese che dovrà essere rifatta questa cosa ogni mese e quindi vi ringrazio già se deciderete di farlo perché decidere di supportare un canale rispetto a un altro con quell'abbonamento lì che è totalmente gratuito vuol dire che ci tenete tantissimo al canale perfetto allora adesso andiamo a vedere come partecipare al giveaway innanzitutto vi dico che il giveaway sarà quindi di una copia fisica di Resident Evil Village per PS4, Xbox o PS5 allora quindi per partecipare scusate se guardo fuori camera ma ho il computer qua vicino vi voglio far vedere innanzitutto scrivendo punto esclamativo points potete vedere quanti puni avete guadagnato seguendo le live invece scrivendo punto esclamativo giveaway verrete portati a questa schermata di stream elements dove verrà spiegato il fatto che ha 300 followers visto che avevo messo 500 però voglio darvelo prima diciamo questo premio una delle live successive rispetto ai 300 follower prestabiliti verrà sorteggiato uno tra i partecipanti che hanno acquistato un biglietto ogni biglietto costa 100 punio e come potete vedere sulla sinistra c'è scritto che io do 10 punio ogni 10 minuti di live seguita solo mettendo il follow ricevete 100 punio quindi già solo mettendo il follow potete partecipare i donatori riceveranno 10 punio ogni dollaro donato i tifosi che doneranno il 100 bit riceveranno 10 punio e tutti gli abbonati invece riceveranno 200 punio dopo di aver accumulato diversi punio quindi almeno 100 per poter prendere un ticket quindi poi sempre in chat scrivendo punto esclamativo ticket se abbiamo più di 100 punio possiamo acquistare un ticket finita lì molto semplice ragazzi tutto gratuito nel caso logicamente se decidiate di iscrivervi o donarvi riceverete più punio logicamente però è veramente un modo molto secondo me interattivo e semplice per poter partecipare a questi giveaway una cosa che però non ho ancora detto che ho aspettato di fare il video apposito così diciamo tutti partono nello stesso momento se volete potete gamblare i pugni con il comando punto esclamativo gamble 10 inviando potete scommettere i pugni che avete per raddoppiarli oppure perderli quindi avete il 50 per cento di possibilità di guadagnarne il doppio ho il 50 per cento di possibilità di perderli tutti in questo caso io li ho persi però se proviamo di nuovo con points no gamble scusate gamble 50 ho perso altri 50 punio quindi ragazzi il bello è che se voi scommettete 200 punio e poi vi va bene avete già quattro ticket per poter partecipare e al momento visto che ho detto solo in live sta cosa qua ci sono solo 13 biglietti comprati secondo me 14 perché adesso uno dice no sempre 13 perfetto ci sono 8 partecipanti quindi veramente avete un'ottima possibilità di vincere resident evil nuovo che vi spedirò con bartolini direttamente a casa vostra totalmente gratuito per ringraziarvi del supporto che mi state dando quindi noi ci vediamo questa sera quindi domenica in live alle 9 e mezza fino alle 11 e mezza poi mercoledì venerdì invece faremo un'apertura di un case di digimon bt4 dove anche lì darò in omaggio come giveaway queste tre carte che valgono 10 euro l'uno al momento e sono delle promo e forse addirittura in base un po quante persone siamo un set completo delle promo del torneo nuove di cui queste qua onestamente non si sa bene il prezzo per il momento però secondo me si aggirerà intorno agli 80 euro per tutti insieme quindi tutto qua vi aspetto almeno per un saluto sul canale viola così potrete mettere follow e addirittura e acquistare un biglietto gratuito per portare quindi partecipare al giveaway e noi ci becchiamo al prossimo video ciao a tutti